La civiltà minoica, che prende il nome dal leggendario Minosse re di Creta, si sviluppò nell'isola in questione tra il 2800 e il 1400 a.C., cioè dal III al II millennio a.C. Sono due i fattori che determinano lo sviluppo della civiltà minoica o cretese. Il primo è costituito dalla posizione centrale che l'isola occupa nel mar Mediterraneo orientale. Il secondo è dato dalle caratteristiche fisiche dell'isola stessa. Essa, a differenza di come appare oggi, era un'isola verde, come dice Omero, cioè ricca di vegetazione, ricca di pascoli e di terreni coltivabili. La posizione centrale nel mar Mediterraneo, il primo fattore di cui abbiamo parlato, è infatti all'origine della vocazione marittima e commerciale che caratterizza questo popolo. I cretesi o minoici furono abili navigatori e soprattutto abili mercanti, abili a tal punto che all'apice dello sviluppo della civiltà essi raggiunsero il controllo dei traffici che si svolgevano nel mar Mediterraneo, il controllo esclusivo o monopolio al quale i greci diedero un nome specifico, ossia il nome di talassocrazia, dominio sui mari. L'altro fattore, e cioè la presenza di terreni coltivabili e di pascoli, spiega perché tra le merci esportate dai cretesici fossero anche i prodotti agricoli. E a proposito di commercio, cosa esportavano e cosa importavano i minoici? Esportavano le ricchezze della propria isola e dunque i prodotti agricoli, vino, olio e grano in primis e il legno, perché abbiamo detto che l'isola era ricca di boschi. Essi poi esportavano anche altri prodotti, per esempio le stoffe. Che cosa invece importavano? Importavano materie prime di cui era carente, l'isola in particolare, i metalli, rame e oro, materiali che erano alla base di un ricco e florido artigianato, e poi il marmo, materiale fondamentale per la costruzione dei monumentali palazzi. Strettamente legata all'attività commerciale è la scrittura, come nel caso dei fenici. Per commerciale, per rendere più semplici le transazioni commerciali e per documentare l'attività commerciale, ma anche per amministrare un complesso così articolato e come l'attività amministrativa all'interno del palazzo, per gestire tale attività, i cretesi idearono due sistemi di scrittura. Il primo, mutuato, cioè preso dagli egizi, è il sistema geroglifico, è una sorta di scrittura geroglifica, che risente dell'influsso della civiltà egizia, con cui i minoici erano in contatto per rapporti commerciali. Ma dal momento che il geroglifico era un sistema di scrittura molto complesso, esso fu semplificato in un sistema sillabico non decifrato che prende il nome di lineare A. Come facciamo a conoscere la scrittura dei minoici? Lo sappiamo grazie a dei repetiti, archeologici ritrovati tra le rovine dei palazzi di Cnos e di Festo, cioè le tavolette di argilla. Tra queste ci sono anche tavolette incise con una scrittura che non appartiene propriamente ai minoici, che si chiama lineare B. La lineare B è la scrittura sillabica introdotta dai conquistatori dell'isola, cioè dai micenei intorno al 1400 avanti Cristo. E a proposito di testimonianze archeologiche, quali sono le testimonianze archeologiche e i reperti più significativi che attestano l'esistenza e la fioritura di questa civiltà oltre alle tavolette? Li abbiamo già menzionati prima, sono i palazzi, in particolare due i palazzi di Cnosso e di Festo scoperti dall'archeologo Arthur Evans intorno alla seconda metà dell'Ottocento. Si devono agli scavi di Arthur Evans gli studi su questa civiltà di cui prima non si sapeva assolutamente nulla se non vaghe notizie da alcune fonti greche. Ritornando ai palazzi, gli reperti archeologici documentano la presenza di una struttura architettonica molto complessa e molto stratificata. Il palazzo infatti è un complesso di edifici che non è stato, diciamo così, costruito sulla base di un progetto preliminare, ma è il risultato di una progressiva aggregazione di edifici nel corso del tempo. Il palazzo è il cuore della civiltà minoica e come tale è un centro polifunzionale. Cosa significa? È un centro al quale, che assolve, che esercita più funzioni. Quali sono? Tre principalmente. Il palazzo è la sede del potere politico e religioso, del sovrano e dell'aristocrazia che governa la comunità insieme al sovrano. La presenza di magazzini documenta anche l'altra funzione del palazzo, cioè il fatto che era anche un centro di scambi commerciali, di approvvigionamento di derrate alimentari e anche appunto di scambi commerciali. La presenza di un cortile attesta lo svolgimento di attività che coinvolgevano l'intera comunità, probabilmente assemblee, riunioni di carattere politico, religioso o altro. Quali sono le cause del crollo della civiltà minoica che avviene intorno al 1400 a.C.? Su questo aspetto gli studiosi hanno formulato alcune ipotesi. Le cause che determinarono la fine della civiltà sono di due ordini. Da una parte cause di tipo naturale. La terribile eruzione vulcanica che fece letteralmente esplodere l'isola di Tera provocò un maremoto che inondò letteralmente l'isola di Creta, sommergendo i palazzi. L'eruzione vulcanica fu accompagnata da una serie di terremoti che determinarono il crollo di queste strutture. Approfittando della debolezza dei minoici dovuta proprio a questa serie di catastrofe naturali, i micenei invasero l'isola e siamo alle cause militari. Quindi la fine della civiltà non è attribuibile all'unica causa ma una serie di cause.